L'Erasmus Euromosaica non si limita soltanto alle dimostrazioni delle tradizioni, ma anche ad un momento di approfondimento della lingua straniera. Sì, l'Erasmus, come dobbiamo ricordare, è un progetto di mobilità a livello europeo per la formazione, l'informazione, l'istruzione, lo sport e la gioventù. E' centrato soprattutto su due azioni, l'azione 1, Key Action 1, e l'azione 2, Key Action 2. In questo momento Euromosaica fa parte dell'azione 2, dove c'è proprio una collaborazione, una condivisione di buoni prassi e anche di tradizioni. Oggi siamo, ieri stavamo al plesso Marconi, oggi siamo qui al plesso Fondobosso, che ha accolto tutti i paesi stranieri ospiti della nostra scuola. L'iter di Euromosaica, all'interno del primo circolo didattico di Ischia, ha visto anche un momento di manualità, quindi imparare le tradizioni italiane attraverso dei laboratori proprio manuali. Certo, abbiamo affrontato il discorso delle tradizioni proprio ischitane, l'arte di intrecciare i cestini con i kulloli, e stanno costruendo in questo momento gli indrezzatelli, che sono bambolotti vestiti con abiti dell'andrezzata. Abbiamo fatto in modo di essere, come dire, proprio insieme, bambini italiani e bambini ospiti stranieri, proprio per condividere meglio le nostre culture. Qual è stata la tradizione che la Grecia ha portato in Italia? Abbiamo portato costumi tradizionali, non solo in Grecia, ma anche le altre nazioni che sono qua a Ischia. Vogliamo presentare le nostre tradizioni di Grecia, di nord. Abbiamo portato pupi, come si dice in italiano, piccoli vestiti. Abbiamo fatto nella scuola, abbiamo fatto cose che possono tutti vedere che cosa abbiamo portato. Anche la danza? Abbiamo visto prima come hanno fatto i bambini da Turchia, abbiamo fatto anche noi, come le nostre danze in Grecia di nord.